Siamo ancora a Qashqai, questa bellissima città che ospita questo evento oggi europeo di Harley Davidson e siamo niente proprio di meno che il sindaco e il presidente di questa cittadina. Quindi, per i nostri amici amici, diciamo qualcosa di questo evento, questa piccola e bellissima città e queste biciclette e questa bicicletta, questa bicicletta americana, por favor. È un piacere per noi, a se vedere a Qashqai, tutta questa gente buona, gente alegre, gente con molta cor che ha dato a Qashqai un altro movimento e perciò io raccomandaria a tutti i povosi del mondo che potessero ricevere un evento di Harley Davidson, non esitem, façam tutto per poter ricevere questo grande evento anche nelle vostre città e nei vostri paesi. Ok, abbiamo un amico qui, un collaboratore del sindaco che dirà due parole in inglese per gli amici americani e anglosassoni. Grazie. Grazie. Allora, ringraziamo il signor sindaco, il presidente di Qashqai e i suoi collaboratori. Siamo nell'ufficio di Qashqai e i suoi collaboratori. in questo magnifico palazzo ci sono anche i nostri amici svizzeri e africani della Polizia e per Carburadio Dago e Frenchi, ma vai! Grazie. 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 Grazie.